Come ferite che non nascondo Oggi nel T Music Studio abbiamo i Negrita che ci presentano il loro ultimo album Benvenuti ragazzi, ci hanno raccontato un po' di aneddoti di cosa è successo durante la lavorazione nel deserto californiano di questo album Diteci un aggettivo sull'ascolto, secondo voi deve essere? L'ascolto dell'album deve essere forte nel senso a volume sostenuto perché abbiamo lavorato un po' su questo aspetto della musica e credo che sia un disco che racconta molto di noi, molto vero da questo punto di vista Quindi ascoltatevi l'intervista su T Music Ciao